Io sono Gabri Costa, ne abbiamo fatta di strada in questo gioco Mortal Kombat 1. Vi abbiamo spiegato tutti i cameo da personalizzare, capite? Tutti questi lottatori cameo ci stanno piacendo tantissimo, ma ora ci concentreremo e andremo a recensire Kano. Ricordatevi che Kano era apparso nel primo gioco, nel 1992, per questo lo vediamo in prima versione. Non dimenticate che spara il laser dal suo occhio e poi fa parte del dragone nero. Guardate i suoi colori, dragone nero e maestro del crimine. E poi vi faccio ricordare che Kano ha sempre lottato con Sonia. È sempre nemico di Sonia. Bene, questo era un breve video per voi, per spiegarvelo. Ora io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace come sempre. Ciao a tutti!